Buona giornata! Oggi è una giornata speciale per chiedere un dono speciale, quello dell'intelletto. Saper leggere dentro le situazioni, saper leggere non in superficialità, ma saper guardare dentro. Guardate che l'esperienza dell'intelletto di chiedere questo dono ci dà un orizzonte per la nostra vita grandissimo. Perché? Perché io so valutare la situazione, so scegliere le cose giuste per quel motivo, per quella situazione precisa. Chiedere l'intelletto è passare dalla fotografia alla radiografia. E molto spesso, quando noi abbiamo una conoscenza e una visione della radiografia, sappiamo anche aggiustare, capire e comprendere cosa bisogna fare, perché le nostre fotografie siano un'opera di Dio. Che il Signore vi illumina nel chiedere il dono di questo intelletto, ma che possa essere messo in atto là nelle cose che oggi siamo chiamati a fare. Il Signore ti benedica.